segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sia meloni perdeva ma anche l'ishline mi pare no anche l'ishline perdeva due punti e due dal 28 e 4 al 26 e 2 dobbiamo ricordare che prima delle primarie l'indice di fiducia stiamo parlando di quello di ellish line era intorno al 21 e qualcosa con il risultato importante la sorpresa delle primarie è arrivata a sfiorare il 30 per cento quindi il 28 febbraio era al 28 e 4 e al mese dopo è al 26 e 2 diciamo che anche tra le priorità quando abbiamo fatto le domande i diritti civili non sono emersi tra le priorità tra i temi diciamo più più importanti da portare avanti ecco perché diventa interessante il cambiamento del pd dal fronte ad esempio c'è stato un tesseramento nuovo molti di coloro che sono andati a votare si sta guardando con molta attenzione anche lo spostamento dal movimento 5 stelle dagli altri partiti come verdi e sinistra italiana verso proprio il pd tuttavia anche all'interno del loro elettorato i temi fondamentali risultano sicuramente l'inflazione e l'aumento dei prezzi hanno un occhio di riguardo quasi un elettore su tre indica la guerra che non presenta una via d'uscita e sempre un elettore su tre del pd che è il dato più alto trasversalmente quindi guardando tutti gli elettorati indica la gestione dei fondi del pnr e tutti questi sono argomenti ovviamente al momento trattati un pochino più di striscio e con meno attenzione rispetto a quello che desidererebbero fortemente i loro elettori allora facciamo dare una battuta finale perché tra poco c'è con noi paolo sotto corona e poi apriamo un capitolo che oggi vogliamo dedicare una piccola nicchia nella parte finale alla televisione insomma sono sempre istruttive queste indicazioni di alessandra ghisleri per capire il clima generale molto ma anche qui storicamente il tema dei diritti che sono temi per quanto mi riguarda fondamentali però sono temi che non hanno un grande approccio elettorale non c'è niente da fare non hanno presa non hanno presa non c'è prima il portafoglio non c'è niente da fare questo è il tempo lavoro e portafoglio lavoro e tasse questi sono i temi sicurezza un po e questo questo è diciamo fondamentalmente sì d'accordo anche sono d'accordo e sono temi che l'ashline sta evitando con grande maestria perché si sta occupando soprattutto di appunto di diritti e un po ha toccato l'argomento dei migranti proprio rasentato quello della guerra insomma anche il popolo di sinistra invece ha delle esigenze diverse rispetto sì sì però c'è una secondo me c'è un piano è il piano è il piano è il piano è siccome si va a votare sempre meno persone cioè tu ottieni percentuali più alte se comincia a motivare i tuoi e poi dopo si vede allora siccome c'è la necessità di recuperare un elettorato che alle ultime politiche non c'è andato che si è riversata un po sui 5 stelle un po sugli altri partiti diciamo di area progressista lei in questo momento sta cercando di recuperare di recuperare la casa madre diciamo i dispersi diciamo i renitenti all'area ed è il primo passo poi devi allargare poi devi allargare il famoso campo anche chi non è diciamo chi non è dalla sua parte esatto perché nella casa madre ci sono delle anime che proprio non stanno sulla sua lunghezza d'onda però Giorgio Meloni ha fatto la stessa operazione molto identitaria a destra e ha tirato via tanti voti alle altre forze della coalizione in questo modo qui però lì erano tre partiti noi stiamo parlando di un solo partito con vari anime la Meloni aveva tre partiti ha unito tre partiti però tu hai 5 stelle molto forti hai una sinistra con i verdi hai persino il partito di Emma Bonino perché sui diritti ha costruito la sua identità cioè tu stai un po' prosciugando tutti gli altri allora vado da sotto corona